ciao ragazzi come stai noi oggi ci proviamo ancora quindi nel nostro solito riscaldamento inseriamo un emom oggi un emom che è un acronimo vuol dire every minute on minute direbbero quelli bravi in sintesi si lavora su un minuto noi svolgeremo tre esercizi e alla fine quello che rimane del minuto è il tuo recupero dopodiché ci saranno altri tre giri bilanciere alle mani vuoto e proviamo ad avvicinarci allo snatch perché questa sarà la nostra forza ci vediamo lì ciao 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 ed eccoci alla forza ragazzi come detto più volte lo snatch è tra i movimenti più difficili da utilizzare quindi occhio ancora qualche esecuzione col bilanciere vuoto e proviamo a fare un po di forza quindi occhio al movimento mi raccomando qui importante la tecnica se non l'hai curata magari ne possiamo parlare mi scrivi sotto ed eccoci al workout finale in questo workout ti voglio dire che ho inserito ancora la corda nello specifico i double under ti ricordo che ho creato un bel video specifico su come imparare la cosa anche per te che non l'hai mai fatta quindi vado a vedere ti lascio il link sotto in descrizione sono quattro giri for time nel minor tempo possibile quindi ancora per oggi ti dico allenati bene noi ci vediamo domani iscriviti al canale o lascia un mi piace ciao 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 ciao